E ritorno da te, dal silenzio che è in me Laura Pausini L'emozione Fresca delle sue canzoni In prima assoluta, Canale 5 ospita Laura Pausini in concerto Domenica alle 20.30 È tornata Che tu la veda o no, la polvere è ancora lì Ma i panni Swiffer hanno una struttura nido d'ape e un'azione elettrostatica Per attrarre e catturare polvere, sporco e capelli Invece di spostarli Così, anche nei punti più difficili da raggiungere La polvere sparisce e resta solo il pulito Grazie al sistema Swiffer La polvere non dura, perché Swiffer la cattura È dura svegliarsi quando la montagna dorme ancora Anche per le ragazze della Nazionale di Sci Ma Pocket Coffee è con loro Ricominciamo Quando è il momento di dare di più Pocket Coffee, la carica in tasca Ricominciamo Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte Aspetta Devo dirti qualche cosa Mamma dice che il latte è ancora fresco Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte Mamma dice che è ancora fresco È ancora fresco Ma che razza il latte è? Fresco blu Fresco come? Fresco blu Fresco blu Il latte fresco, otto giorni su otto Da Parmalat Fresco blu Da pura freschezza che dura di più Vi diresti a berlo? BOLGARI BLU BOLGARI BLU A tutte le slitte, a tutte le slitte E' scomparso un certo Natale Babbo Di circa 200 anni L'unico indizio Una scatola di Pandoro Paluani E le parole pronunciate prima di sparire Con Paluani Aiuti Telefono Azzurro Eccoci qua Non siamo né dentro né fuori E' come con l'euro Ancora non è arrivato Ma c'è Infatti possiamo già pagare con i nuovi assegni euro Ma esistono già E gli assegni in lire, direttore? No, no, no Quelli del primo gennaio non si possono più usare Comunque io non sono direttore Non è vero Ho un langurino Ma non è proprio fame E' più voglia di Voglia di Ambrogio Tu mi vizi Proprio come fai con la mamma Ghiaccio e di sarom Così si beve a Zanzibar Di Saronno Il liquore italiano più bevuto nel mondo Renoscenic limited con radio monocidivi serie Da lire 30 milioni 750 mila Oppure con finanziamento fino a 48 mesi a passo zero Comprimerata il 28 febbraio 2002 Importo massimo finanziato Lire 30 milioni Ogni volta che volete la purezza assoluta Andate direttamente alla sua fonte Levissima Purissima lei Purissimi voi Altissima Purissima Levissima Pink Floyd The best of Pink Floyd The best of L'evento discografico Del nuovo millennio E adesso un ultimo moncheri Proprio l'ultimo E chi si merita questa meraviglia di cioccolato Con dentro il liquore E la ciliegia freschissima E mi ruberesti l'ultimo moncheri? Sì Moncheri Troppo buoni per restare senza Dottor Richard Kimball Innocente Condannato a morte Braccato senza pietà Io non mollerò mai Mai Neppure io Solo Il Fuggitivo La serie Mercoledì alle 21 Prima visione Italia 1 Damiani Anello Bambù